Barbara D'Urso e la dedica a Luca Argentero, che risponde. La conduttrice ha rivolto il suo pensiero all'attore protagonista Dean Doc, che nel 2003 esordì in tv nel primo grande fratello condotto da lei. R ha i 4.714.000 di spettatori che ieri erano sintonizzati su RION per la seconda puntata di Doc, nelle tue mani c'era anche Barbara D'Urso, anche lei evidentemente fan della seguitissima serie tv giunta alla sua terza stagione. Quindi oggi c'è cancelletto Doc 3, ha scritto la conduttrice su decimo prima di rivolgere una dedica affettuosa al protagonista Luca Argentero. Ricordo la prima volta in tv del bello e bravissimo Luca Argentero nel mio GF del 2003. Sono passati oltre vent'anni, lui ha studiato tanto ed è un attore pazzesco. Viva Luca! Un pensiero che non è passato inosservato agli utenti quello di D'Urso a cui lo stesso Luca Argentero ha risposto con un cuore a simbolo della sua gratitudine e del reciproco affetto. Era il 2003, infatti, quando Canale 5 trasmetteva la terza edizione del Grande Fratello, condotta per la prima volta da Barbara D'Urso, che subentrò a Daria Bignardi, e con la partecipazione dell'inviato Marco Liorni. Tra i concorrenti di quella edizione che fu vinta da Floriana Secondi, ci furono diversi personaggi che ottennero una certa popolarità, come Pasquale Laricchia, Fedro Fancioni e Luca Argentero, appunto, che allora si classificò al terzo posto dando il via a una carriera di grande successo!